Continuano senza sosta le indagini per trovare il pirata della strada che due settimane fa ha ucciso, investendola, l'infermiera di Quinto di Treviso, Lucia Cendron. Poche certezze, un casco bianco, pantaloncini corti e un ciao. Diverse le segnalazioni arrivate ma che si sono rivelate purtroppo dei buchi nell'acqua, come quella fatta da un infermiere che aveva notato dei segni compatibili con la caduta di quel mercoledì sera sulle braccia di un cliente o un meccanico a cui era stato chiesto di sistemare un motorino tipo ciao. Stiamo proseguendo l'attività a tappeto sulle zone limitrofe a quelle dell'incidente cercando di riscontrare tutte le informazioni che abbiamo raccolto per identificare questa persona. Diciamo che in questo momento hanno cominciato a farsi sentire le persone che finora erano assenti perché magari ancora in ferie, ancora in vacanza e adesso rientrando stanno cominciando a farsi sentire e a darci qualche elemento in più. Sono persone che non hanno seguito la vicenda due settimane fa perché non c'erano e magari adesso cominciano a prendere coscienza. Intanto si attendono gli scontri delle analisi eseguite sulle tracce ematiche trovate a terra e sulla bicicletta della vittima. Sì, non abbiamo avuto ancora riscontro dall'Istituto di Medicina Legale di Padova che sta facendo i test sul DNA dei campioni raccolti.